Per l'Inter è stata la partita perfetta, un 2-0 che non ammette repliche, mai l'avevamo vista giocare dal primo all'ultimo minuto in maniera così convincente e dominare la partita come nella sfida di questa sera San Siro con la Juventus. L'Inter ha vinto dal punto di vista mentale, per intensità, impegno e determinazione, ha vinto dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista dei confronti individuali, anche sulla qualità. Questa volta l'Inter, che è una squadra meno votata all'estetica, ha giocato con tantissima qualità vincendo i duelli, se vogliamo, individuali con gli avversari. La Juventus ha pagato sicuramente le assenze di Alexandro Equadrado, è stata massacrata sulla corsia di sinistro dal primo all'ultimo minuto dove fra botta nulla ha potuto, poi è stato sostituito per infortunio contro gli assalti di Hachimi e i tagli di Barella che sembrava una scheggia impazzita e giocava da una parte all'altra del campo, non dando punti di riferimento ai centrocampisti della Juve. Ecco, la Juventus ha perso in tutti i settori del campo la partita, in difesa Chiellini e Bonucci nulla hanno potuto, ha pesato anche l'assenza di De Ligt, ovviamente per la Juve sono stati spazzati via dalla potenza fisica, dall'intensità di Lukaku e di Lautaro Martinez, ma la Juve ha perso il confronto anche in mezzo al campo dove Bentancur, Rabiot e Ramsey sono stati surclassati da Vidal, da Barella e da Brozovic, ha risultato quasi compromesso, Pirlo ha sostituito Fravotto infortunato con Bernardeschi, in mezzo al campo ha inserito Kuluseschi e Ramsey al posto di Rabiot e Ramsey, scusate ha messo Kuluseschi e McKennie al posto di Rabiot e Ramsey, ma la sostanza della partita non è cambiata, l'Inter è sempre stata più intensa e più decisa. Questo 2-0 io credo che tolga la Juve dalla corsa Scudetto, è vero mancano ancora 20 partite, però la Juve ha meno 7 dall'Inter che adesso appaia il Milan a 40 punti, se il Milan vince con il Cagliari va a più 10 dalla Juventus. La Juve vista questa sera è una squadra che gioca secondo la concezione filosofica di Pirlo, cioè tanto possesso palla, fraseggio per poi cercare di accelerare, ogni tanto abbassa un pressing, ma contro questa Inter granitica nulla l'è stato possibile. Se contiamo che la Juventus sta vivendo forse il periodo più opaco di Cristiano Ronaldo, mai fuori forma come questa sera e in questo periodo, forse a 36 anni sta cominciando a suonare il primo campanello d'allarme, ma tant'è. Questa volta l'Inter ha vinto e convinto una partita perché dall'inizio alla fine ha giocato in modo convincente. È stata una bella risposta, devo fare i complimenti a Conte, una bella risposta dell'allenatore della squadra che tra l'altro è riuscita a disonarsi dalle voci e dai movimenti societari che probabilmente non fra molto, anche già agli inizi di febbraio, potrebbero portare a dei trasferimenti del pacchetto di maggioranza in questo momento detenuto dal gruppo Osuninga. Quindi Inter che non molla, mette pressione al Milan, credo che si sia sbarazzato anche a livello psicologico, non solo nei numeri con questo 2-0 con un gol per tempo di Vidalla e poi di Barella, bellissimo quello di quest'ultimo, si sia sbarazzato a livello psicologico e nei numeri della Juventus e si candidi davvero come forse favorita per lo Scudetto, anche se in questo momento è soltanto appaiato al Milan che, ricordiamo, ha una partita in meno.